del Tg1 e poi Max Giusti svelerà i premi dei pacchi di affari tuoi. Alle 21.10 appuntamento con la prima parte della miniserie in prima visione assoluta, Malaria, con Ettore Bassi, Sara Felberbaum e Stefano Dionisi. Nel 1925 arriva da Ravenna l'allarme di un'epidemia di malaria. Da Roma il Ministero invia come ispettore un giovane e timido medico che si ritrova a dover fronteggiare prima ancora della terribile malaria una serie di morti violente. Buona serata.